ciao a tutti nel video di oggi leo piange disperato perché non vuole togliere l'acqua dalla vasca per giocarci ancora poi gioca con i filtri di instagram con papà fedez e fa un giretto al parco con i genitori vi lascio al video buona visione non mi faccio le unghie da un po però qui siamo in lockdown in lombardia e quindi non posso farmi fare le unghie da nessuno quindi ho chiesto a isa di collegarsi insieme a me per aiutarmi a farmi le unghie da solo non so bene cosa stiamo per fare però allora faccio vedere questa perché quella che è venuta meglio la leopardata le altre così così ma c'è margine di miglioramento raga dai qui ci vale un 5 stiloso allora cinque pugnetto e ancora cinque e poi mano così e poi e naso amore pronti partenza via con la pappa no mi devi mangiare davvero amore non per finta no amore non deve mangiare lilli amore ma domani la rimettiamo l'acqua amore ma domani la rimettiamo è normale che vada giù è acqua sporca adesso è l'acqua bella è bella stavate attenti stavate attenti stavate attenti stavi cadendo amore eh è vero sta attento stavate attenti stavi Grazie a tutti.